L'acqua Cos'è? L'acqua è il bene più prezioso che abbiamo, senza il quale non possiamo vivere. Come la troviamo? Liquida, solida, gassosa. Come la usiamo? Possiamo usarla per cucinare, per dipingere o per lavarci. Dove possiamo trovarla? Nei pozzi, nelle piogge, nel corpo umano? Oppure nei ghiacciai, nelle piante o nelle fontane? Dobbiamo stare attenti ad utilizzare l'acqua perché possiamo inquinarla. Alcune regole da seguire. Chiudere i rubinetti e riutilizzarla per bagnare le piante. Il riciclo Cos'è? Raccogliere in modo separato i diversi rifiuti, così da poterli riciclare. Dove lo butto? Plastica, carta, umido, vetro, secco. In quanto tempo scompare? In un anno il fiammifero, in 50 anni il polistirolo, in 500 anni i pannolini. Salviamo il mare. Nel mare ci devono stare i pesci, non i rifiuti. La regola delle tre R. Riciclo Riutilizzo E riduco Alcune regole da seguire. Riduci gli imballaggi di plastica e fai la raccolta differenziata.